Una donna di 36 anni, Fortuna Bellisario, è stata trovata senza vita sul pavimento del proprio appartamento a Miano, ieri pomeriggio, nel parco La Quadra in Corso Mianella a Napoli. Secondo quanto dichiarato dal marito nella chiamata al 118, sarebbe stato lui stesso a picchiarle e a ridurla così. Non respira più aiutate, mi ha detto i sanitari. Giunti sul posto hanno provato a rianimare la donna, che è deceduta poco dopo. Sabato scorso un'altra donna era stata uccisa dal marito a Melito. Per lui l'accusa di omicidio volontario è aggravato dalla crudeltà. L'uomo Vincenzo Lopresto, 41 anni, ha colpito la moglie con un corpo contundente, forse un'asta appendiabiti, che è stata sequestrata dalla polizia. Il movente della lite nel corso della quale Lopresto ha ucciso Fortuna Bellisario sarebbe da ricercarsi nella gelosia nei confronti della moglie. La donna lascia tre figli di 7, 10 e 11 anni, che non erano in casa al momento della morte della madre, perché è usciti con la nonna.